Io l'ho avvertita entrambe, sì, ho avvertito entrambe le scosse ma è durato pochissimi secondi, due o tre secondi. La terra torna a tremare, le scosse di terremoto si sono verificate lungo l'Appennino Tosco-Romagnolo, in questo caso in provincia di Forlima, noi ci troviamo a Stia, a soli 15 chilometri dall'epicentro, dove le scosse sono state avvertite distintamente. La prima scossa è anche quella più forte nella giornata di sabato, magnitudo 3.7 alle 18.52 con epicentro a Premilcuore in provincia di Forlì. Secondo i rilevamenti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma ha avuto ipocentro a 7 chilometri di profondità. Lei l'ha avvertito? Sopra il divano. Entrambe le scosse, quella delle 19 circa e di mezzanotte? No, quelle mezzanotte no. La scossa è stata avvertita distintamente anche ad Arezzo e nella montagna Aretina, in particolare nei comuni casentinesi di Montemignaio, Poppi, Castel San Nicolò e Prato Vecchio Stia. Due minuti dopo un altro sisma di magnitudo 2.9, praticamente nello stesso punto a una profondità di 6 chilometri. Infine una terza scossa alle 20.04 di magnitudo 2.2. Ero a Casalino, che è un paesino proprio qui, una frazioncina qui vicino del comune di Prato Vecchio Stia. Sì, l'ho sentito, eravamo in piscina fuori, mio marito via più che io, perché c'è una specie di recinzione di legno, quella si è smossa insomma. Un sisma di magnitudo 3.6, anche questo non lontano dal confine con la Toscana, con ipicentro sempre apremi il cuore. Quello delle 19 io sì, ma leggero, è poco. Quello di mezzanotte no. Insomma però l'Appennino di solito, sovente si muove insomma, quindi... Sì, sì, va bene, però, voglio dire, poca cosa via qui. Tante volte la zona appenninica qua, soprattutto Romagna, Santa Sofia, premi il cuore, è sottoposto, sì, sì. E qua di rimbalzo lo sentiamo sempre. Grazie.